Sì, ma infatti io ho fatto questa premessa, non posso giudicare sull'emergenza perché quello lo devono fare le autorità preposte, ma sul fatto che ci sia un problema, vi sto dicendo ovviamente che il problema c'è. Però noi dobbiamo fare una distinzione, perché da una parte c'è il piano politico dell'amministrazione romana, il discorso sull'assessore, sul pinuccio montanare, va benissimo e mica dico che non esista questo tipo di problema. Però dall'altro punto di vista c'è quella che è la gestione del rifiuto in maniera strutturale. Gli impianti non li fa il Comune di Roma, l'organizzazione del piano rifiuti regionale, quindi la gestione intera del ciclo dei rifiuti non lo fa il Comune di Roma. Il Comune di Roma non fa leggi, non è uno Stato, ma il Comune di Roma deve lavorare sulla base appunto di un sistema che viene definito da altri. Quindi il problema gestionale è un po' più ampio e coinvolge soprattutto la Regione. Io non capisco perché Zingaretti non venga mai chiamato in causa su questo.